Eccoci amici, ospiti quest'oggi di FS News, Gianmarco Venuto e Filippo Sironi. Buongiorno Gianmarco. Buongiorno. Allora, un progetto che è un progetto imprenditoriale, un progetto di impresa con dei locali a Milano, con dei ristoranti molto originali e particolari che però nascono in una tradizione profonda, una tradizione pugliese che tu hai portato dalla tua terra. Di che si tratta? Sì, dal profondo sud, diciamo. La referenza, l'ispirazione è pienamente pugliese perché diciamo che per tutta la lunghezza, ed è molto lunga la Puglia, sono 600 km rotti, sono molto diffuse una tipologia di macelleria e cucina che a seconda un po' dell'altezza, nel nord si chiamano bracellerie, nel Val Ghitra si chiamano Fornelli, Salento bracerie. La costante comunque, il FIURRUGE è banco macelleria centrale, prodotto della tradizione, con cani locali, prodotti locali. Si può o acquistare, fare la spesa e portare a casa, oppure si può scegliere direttamente al banco la carne, farsela cucinare, cuocere rigorosamente la braccia, presso appunto i fornelli e le griglie e mangiare direttamente in macelleria. Ecco, voi questo progetto l'avete portato a Milano e non solo, l'avete chiamato il Mannarino. Mannarino, che cosa significa? Il Mannarino, nell'antica arte della macelleria italiana, è la mannaia piccola, un coltello, e quindi appunto abbiamo voluto evocare proprio questa terminologia e anche un po' onomatopeca legata alla carne, la mannaia dell'attrezzo che poi chi viene a trovarci nelle nostre macelleria con cucina troverà sempre in mano al nostro macellaio, il Mannarino, per appunto la lavorazione, il taglio e la scelta della carne direttamente al banco. Ecco, una scelta che diventa un po' il gioco, ma anche l'approfondimento culturale di quello che è la tipologia della carne, le sue preparazioni, avete anche, oltre a una scelta che adesso mi elencherai, di diversi tagli e di diversi animali, avete anche della tradizione delle bombette pugliesi, avete la tradizione della salsiccia particolare, oltretutto con il coinvolgimento di fornitori locali che, insomma, trovano con voi lavoro in più, trovano sviluppo. Certo, assolutamente, noi abbiamo iniziato a lavorare un anno prima della nostra apertura, della nostra prima apertura, una ricerca durata mesi, lungo e largo per la Puglia, per il Piemonte, alla ricerca di eccellenze, alla ricerca di produttori che fanno il loro lavoro come una volta, con un'usione familiare, che rispettano l'animale, rispettano il territorio e creano valore. E quindi dalla Puglia, con il nostro laboratorio di bombette, la carne al 100% di maiali italiani, alla zampina, che è un'eccellenza tipica di San Michele. E che è una salsiccia particolare, no? Come è fatta? 95% manzo, 5% maiale, pomodoro secco, basilico, e essendo una salsiccia di manzo è molto magra, quindi va cotta anche poco, si rimane un po' più rossa, un po' più umida. E poi diversi tagli di carne che arrivano da animali di diverse provenienti. La nostra offerta si divide in due macro-categorie, il lato carne, il lato banco, il semilavorato, bello sfizioso, colorato, le nostre bombette, la zampina, la salsiccia punta di coltello, gli arosticini, tutta una serie di straccetti di carne conditi, insomma, con anche verdure molto gustose, e poi tutta la parte di lombate, di costate fiorentine. Abbiamo tre razze fisse, tre tipologie di carne e razze fisse a banco, sono la fassona piemontese, costate fiorentina, la bavarese, sì, mentale, un po' più marezzata, un po' più morbida, e la manza lombarda, che nasce da un progetto sul territorio, da cascine, carne che arriva da bestie, da animali, delle cascine, del sondrio, l'ecco, quindi un po' di secondario, un prodotto a chilometro zero, possiamo dire, e ogni mese abbiamo una razza speciale, che scegliamo, selezioniamo nei nostri test praticamente settimanali, e questo mese c'è la grigia alpina, sempre una razza che è sui nostri monti in Italia. Interessante, senti, questo tipo di cucina invita anche molto la convivialità, no? Assolutamente. Cioè questi vostri luoghi, questi vostri ristoranti, che poi sono molto caldi dal punto di vista della sala, come vediamo anche alle tue spalle, cioè c'è proprio voglia di stare insieme con una tavola del genere. Sì, assolutamente, infatti insieme alla carne andiamo ad accompagnare il pasto, diciamo, no? Il pranzo, la cena e macelleria, con una serie di antipasti e una serie di contorni, appunto, per accompagnare la carne, il nostro primitivo biologico del mannarino e una cartabini e la nostra birra messina o birra del gargano. Siete selezionato anche il produttore del vostro vino della casa, cosiddetto, per dimostrare che si può avere un vino della casa di livello. Assolutamente sì, lo serviamo nelle brocche e è una cosa in cui ho creduto sin dall'inizio, perché comunque nella maggior parte del sud Italia, nel centro Italia, il vino di qualità si beve anche nella brocca, con un'ottima selezione dei ristoratori, portano avanti con dei produttori del territorio. Diciamo che la cosa si fa un po' più difficile nel nord Italia, perché il vino della casa spesso viene un pochino sottovalutato, diciamo. Gianmarco, quindi il mannarino è sia macelleria, dove si può scegliere la carne e portarsela a casa, come in un negozio tradizionale, fare la spesa, bravo, sia consumarla sul posto, come dicevi rigorosamente, alla braccia, ma anche farsela spedire in tutta Italia. Assolutamente sì, le nostre macellerie funzionano tutto il giorno, dalla mattina alla sera, tutti i giorni, 7 su 7, chiudiamo solo qualche volta il 25 dicembre, un giorno all'anno, quindi a Natale, per permettere anche ai ragazzi di condividere le festività in famiglia. E' possibile appunto fare la spesa, acquistare non solo carne, ma anche una piccola parte di gastronomia, appunto anche per accompagnare la carne nella cottura a casa, che abbiamo chiamato a casa di nonna, con parmigiana, polè di fave cicora, eccetera, che rispecchia anche un po' il nostro menù in store del ristorante. E' possibile scegliere la carne, scegliere i contorni appunto per accompagnare la carne e gustare direttamente, farsi preparare direttamente le pietante specialità direttamente in macelleria, oppure è possibile ordinare dalla nostra macelleria online, che abbiamo aperto nell'ultimo periodo di Covid, in cui abbiamo dovuto tenere le macellerie chiuse e i ristoranti chiusi per un periodo, per un bel periodo purtroppo, e assolutamente sì, è possibile ordinare tutti i tagli di carne nell'offerta del nostro banco, le nostre specialità e fare consegnare direttamente a casa vostra e sulle vostre griglie in tutta Italia. Ed eccoci con Filippo Sironi, ciao Filippo, sei già seduto a uno dei tavoli al Mannarino di Via Tenca, allora, un'avventura impenditoriale che avete affrontato con entusiasmo e con passione, ma con quali idee anche di economics? Mannarino nasce nel 2019, quindi siamo in realtà molto giovane, nel 2019 avevamo aperto due punti vendita, abbiamo chiuso il primo minaccio, avendo aperto aggiunto circa un milione, nel 2020, nonostante il Covid, siamo riusciti a triplicare il masso fatturato, noi siamo chiusi a 3 milioni, e quest'anno puntiamo a chiuscire a circa 7 milioni. C'è aspettato. In due anni circa siamo passati da questo anno del 2019 e quest'anno chiusciremo con 5 negozi. Oltre ai 5 negozi abbiamo il nostro e-commerce dove sfidiamo in tutta Italia, la nostra carne che selezioniamo e lavoriamo proprio in questo storico. Senti, anche la soddisfazione di avere collaboratori con pochissimo ricambio, se non vado errato, quindi vuol dire che funziona la vostra offerta presso di loro, ma anche il lavoro che si compie qua. Sì, diciamo che noi teniamo tanto all'ambiente di lavoro che si crea all'interno di Mannarino e alle condizioni di lavoro. A differenza della maggioranza delle ristorazioni, noi abbiamo una retribuzione a ore e non è un evento concordato, quindi paghiamo tutte le ore in cui sta pagando i nostri clienti, sia le ore di ordinare che le ore di straordinario. E quindi questo può portare ai ragazzi delle nostre paga molto elevate e unito a un ambiente di lavoro comunque giovane, divertente, fa sì che i nostri ragazzi rimanino sempre con noi. Abbiamo un tasso di retention dei lavoratori a un anno superiore al 90%, quindi siamo molto contenti che sia le persone si trovano bene con noi, ma anche viceversa, perché qua anche noi dobbiamo trovarci bene con i lavoratori e cerchiamo comunque soprattutto in fase di selezione di essere molto dure, molto stringenti in maniera tale da poi tenere... Quindi esigente ma sapete restituire. Assolutamente sì, esigenza tanta ma restituiamo anche tanto. Senti, com'è che ti sei appassionato a questo format? Sei un amante della carne anche tu innanzitutto? Assolutamente sì, e poi il mio professor Gianmarco è pugliese, l'idea di Mannarino nasce dall'osservazione delle pracerie in Italia. Sì, sì, ci ha raccontato questa bella storia e tu di dove sei invece? Io sono lanese, sono lanese doc, però con una passione per la Puglia, vado spesso in un viaggio e Videri Mannarino nasce poi da quello. Dà l'osservazione della Puglia ma rivisitate in un'ottica moderna, nel senso che la macelleria intesa come intesa in Puglia è una macelleria che va a sparire. Noi cerchiamo di rivitalizzare la macelleria e di farla continuare, di continuare questa tradizione. Senti, il pubblico milanese apprezza, si vede, siamo anche qui in un orario di pranzo, cioè il tutto è saurito, quindi... Sì, fra un po' ci fanno alzare anche da questo tavolo perché lo vendiamo. Sì, il pubblico apprezza tanto perché apprezzamolta la nostra offerta, sia in termini di qualità sia in termini di prezzo. Perché noi abbiamo comunque uno scottino medio che è contenito, siamo circa su 35 euro, ma al contempo riusciamo a dare una came di alta qualità e questo viene molto apprezzato. Senti, con le ultime cose mi incuriosiscono. Una, siete giovani perché avete, tu e Gianmarco... Stessa età, 32 anni. Ecco, quindi questo ha contato nello sfidare un po' questo settore? Sì, diciamo che noi arriviamo nel settore carne, arriviamo da fuori. Quindi molto spesso quando si, al di fuori di un settore, magari si riscontrano bene con uno spirito critico diverso le criticità e quindi magari si riescono anche a identificare i fattori critici del successo in maniera più razionale e quindi siamo riusciti a vederlo inventato dall'esterno, fare una bella analisi che poi ci ha portato a fare quello che è Mannarino. Quindi la visione esterna ci ha permesso di avere una visione più completa. di analizzare un po' meglio. Di analizzare meglio. Certo. Infine, da qui a cinque anni dove vi vedete? Da qui a cinque anni c'è un piano molto ambizioso di crescita e di sviluppo. Puntiamo ad arrivare a 60 punti di vita alla fine del 2026, quindi c'è un gran percorso, c'è una grande corsa. Siamo in continua crescita e in continuo sviluppo. A novembre avremo il nostro punto di vista come adesso ti abbiamo anticipato. Nel 2022 abbiamo altre sette aperture, quindi ci abbiamo tanto da fare. Sempre in Lombardia o anche fuori? Iniziamo anche col Piemocco. Nel primo semestre c'è sicuramente Turino che merita di avere un Mannarino. Bene, grazie Filippo Cironi. Un bel eserci di timbo calupo. Grazie, a te. Gianmarco, alle tue spalle, piatti lavorati a mano, uno degli elementi di arredo e di design che riscaldano l'ambiente e portano un po' di Puglia a Milano. Assolutamente sì, il nostro intento è sempre stato proprio quello di urbanizzare e replicare il mood e l'ambiente dei borghi pugliesi e delle macellerie con cucina del sud, quindi con tanto calore e tanta tradizione, lavorando sui materiali, lavorando sui colori, lavorando sui luci, lavorando sui amici e sui dettagli. Eccola qui, bicchiere in ceramica, ceramica sul tavolo. Sì, in maniera un po' più, insomma, riadeguandola anche un pochino al contesto cittadino, di una city e urbanizzando un pochino l'approccio. Diciamo che l'amore per il sud non si perde mai. No, quello non si dimentica mai, non si perde mai. Ci si torna costantemente a trovare fornitori, a trovare chi ci sostiene e chi ti segue da due anni, quotidianamente, e poi anche per piacere, per trovare sempre a caccia di spunti nuovi. Viva la Puglia! Sempre! Viva la Puglia! Grazie.